Musica Chi sarà oggi impostore? Ma raga giochiamo Come sempre non sarò io Posso? Non mi spaventarmi così Io non credo nessuno Iniziamo il gioco e vedremo chi sarà veramente l'impistore oggi Non mi spaventarmi così Non mi spaventarmi così Caccia il bottone Secondo me è arancione o verde Perché io all'inizio sono nascosto dentro l'armadio E vedevo tutto quello che c'era nella stanza Azzurro si era nascosto dietro il letto Poi ho visto qualcuno ma non so chi Arancione o verde Che era andato a uccidere azzurro Quindi io voto arancione Secondo me è rosso Perché lui era vicinissimo a azzurro appunto A rosso Non posso essere né io né purple Perché se no avremmo visto chi sarebbe Se purple sarebbe andato Io l'avrei visto Quindi secondo me è rosso Appunto perché era il più vicino Rosso Beh secondo me è verde Così a caso Verde Secondo me è rosso Che è appunto Era il più vicino Secondo me sei tu arancione Perché mi stavo lavando i denti in bagno E poi stavo andando in camera Ho visto te in corridoio E in camera c'era Viola morta sul letto Quindi tu è il più vicino Dato che eri in corridoio Secondo me sei tu arancione Verde Voto arancione Non perdere Dai Arancione Ma non sono io Almeno sei tu Perché tu in quel momento Stavi passando dal corridoio Sì appunto Verde Non sbagliare Eroza Lui Arancione Lui Sì Sì Arancione Arancione Secondo me è Arancione Una volta che sono impostore Sì 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 Sì